Musica Musica Prima di tutto vi ringrazio per essere venuti qui. Ringrazio però soprattutto i padroni di questa meravigliosa casa mai aperta al pubblico che in occasione di questo concerto viene fatta visitare. Questa sera siamo qui per il secondo concerto di associazione Permitto, è un concerto del pianista Laganà che è un compositore, clavicembalista e si è reso disponibili a fare questo concerto per inaugurazione di questa bellissima villa. Quindi oggi due novità, per la prima volta avete visto questa villa e gli affreschi scoperti e poi il primo concerto che Permitto Onlus fa nella città metropolitana. Bene, vi lascio al maestro Laganà che non ha bisogno di presentazioni e buon ascolto. Grazie. Applausi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.